La storica concessionaria Fimauto, punto di riferimento a Verona per tutti gli amanti di BMW e Mini, ha inaugurato da pochi mesi la nuova carrozzeria, oltre 4.000 metri quadrati per garantire un servizio di grande qualità ai clienti e non solo. Questa esigenza nasce proprio per dare la possibilità ai nostri clienti di usufruire di un servizio a 370 gradi, senza preoccupazioni, possiamo offrire il ritiro di consegna, la gestione completa delle pratiche dei sinistri, vetture di cortesia di ultimo modello, sempre del marchio, BMW e Mini, personale qualificato direttamente da BMW e una carrozzeria certificata approvata proprio BMW, usando ricambi solamente originali. Quindi sicuramente un punto di riferimento per i proprietari di auto BMW e Mini, ma non solo. No, diciamo che con la strumentazione che abbiamo a disposizione e personale, abbiamo la possibilità di fare riparazioni su tutti i tipi di vetture e di modelli. La carrozzeria Fimauto è convenzionata con le principali agenzie assicurative e grazie all'ausilio di attrezzature innovative garantisce riparazioni in tempi brevi. Fimauto vanta un ampio magazzino ricambi con consegna anche giornaliera. Inoltre la carrozzeria è tra le prime in provincia ad offrire lavorazioni e assistenza su vetture elettriche. È in corso una promozione che proseguirà fino a Pasqua? Certo che sì, a tutti i nostri clienti per ogni tipo di lavorazione offriremo la lucidatura completa, il lavaggio e l'igienizzazione della vettura prima della consegna. Quanto è importante offrire anche dell'aggiumolazione ai propri clienti? È importantissimo e il valore aggiunto è una cosa in cui noi crediamo molto e cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti il servizio migliore e più completo possibile. La carrozzeria Fimauto vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 e anche sabato mattina. Si trova in via del lavoro 15 a Bussolengo.